Un'acrobazia in semi rovesciata di Simone D'Anna al 94esimo regala al Nardò un punto assai prezioso nella trasferta di Acerra che vale alla squadra guidata da mister De Sanso il quinto risultato utile di fila. Finisce così 2-2 il derby dei Tori Granata andato in scena allo stadio Arcoleo. Meno brillanti rispetto alle precedenti uscite, i neretini si sono affidati all'estro e alla classe del loro uomo più rappresentativo al cospetto di una cerrana che a sua volta deve recitare il mea culpa per non aver saputo infliggere il colpo del KO nell'ultimo quarto di gara, complici alcuni interventi decisivi dell'estremo salentino De Luca. Il Nardò schizza forte dei blocchi e schioda la gara dopo appena tre minuti. Il portiere di casa Rendina non trattiene una punizione innocua di Verdoliac e Danna ben appostato nei pressi scarta il più semplice dei cioccolatini per il vantaggio. Al sesto l'arbitro annulla una rete a laringe per offside su segnalazione dell'assistente. A seguire il calcio piazzato col destro di Fabiano dai 20 metri termina oltre la traversa. La cerrana ripristina però l'equilibrio poco dopo la mezz'ora con l'incursione in area di Todisco seguite dal tiro dell'esterno campano deviato sottoporta dal compagno di squadra Elefante quanto basta per mettere fuori causa De Luca. Il tentativo impreciso da ottima posizione di esposito inaugura le emozioni nella seconda frazione. Il Nardò prova a rispondere ma all'ottavo si lascia infilare in contropiede con laringe ad innescare Elefante che a sua volta suggerisce in area per Niaie abili a scartare Verdoliac prima di battere De Luca con un rasoterra da distanza ravvicinata. A questo punto De Sanso corre i ripari inserendo Maletic e Cira C per piazza e Milli ma il Nardò rischia di nuovo di capitolare al venticinquesimo allorché De Luca compie due autentici miracoli in rapida successione su Elefante e Di Aie. Pur vacillando i Salentini non mollano e all'ultimo respiro strappano il pari. Da un lancio dalle retrovie Maletic fa sponda di testa per Danna la cui prodezza al volo con il destro fissa il 2-2. Il Nardò sale a quota 19 restando così ad un punto dalla zona playoff e domenica prossima se la vedrà il Giovanni Paolo II contro il Martina mentre la Cerrana sarà di scena al Degli Ulivi contro la Fidelisandria.